Tagliando i parlamentari non si tagliano le spese, bensì solo la democrazia e chi come il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e la Lega di Salvini stanno sostenendo il sì al referendum, sostengono un'operazione di stampo fascista e non a caso l'unico taglio dei parlamentari nella storia c'è stato ad opera di Benito Mussolini nel 1929. In piazza antica Reggia Ischia si è tenuto un'importante iniziativa elettorale promossa dal Partito Comunista Italiano, marxista-leninista, fondato dal compianto Domenico Savio, per propagandare le ragioni del no al referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Oltre alla distribuzione di centinaia di volantini, i promotori hanno tenuto una diretta Facebook in cui hanno spiegato quali sono i motivi per cui bisogna sconfiggere il fronte qualunquista e reazionario del sì. Innanzitutto la diminuzione dei parlamentari riuscita storicamente solo a Mussolini nel 1929 e che avrebbe voluto la P2 di Licio Gelli servirebbe solo a tagliare la rappresentanza democratica di senatori e deputati e non certamente i costi della politica, come furbescamente qualcuno vorrebbe far credere, visto che il risparmio sarebbe pari ad un misero 0,007% della spesa pubblica, vale a dire 1,35 centesimi di euro di risparmio all'anno per ogni italiano, costi della politica che invece per tagliarli basterebbe ridurli e gli stipendi da nababbo di circa 15.000 euro al mese dei parlamentari e portarli a 3.000 euro, e cioè compararli ai salari che percepiscono gli operai specializzati delle fabbriche. Dopo averci tolto la possibilità di poter scegliere i candidati da votare, i partiti di centro, centrodestra e centrosinistra, che si sono arrogati pure la possibilità di decidere chi, tra i loro gruppi dirigenti, deve essere nominato deputato senatore, ora vogliono rendere il Parlamento meno rappresentativo e più concentrato nelle mani di un'esigua casta capitalistica. Il presidio si è concluso con un accorato appello a votare no. Di qui l'appello accorato del nostro partito al popolo italiano a votare no al referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre per scongiurare questo attacco, questo attentato alla costituzione antifascista del nostro paese.